Preferiamo cambiare il percorso e arrivare su una visibilità del lungomare che è bella con il Vesuvio di fronte. Questa è la cosa più bella di questa nuova maratona di quest'anno. 42 chilometri e 195 metri da correre, partendo da Pozzuoli e trovando per la prima volta in 17 anni l'arrivo sul lungomare di Napoli. La Maratona Internazionale di Napoli, Trofeo Banca del Sud, ha presentato stamattina tutte le novità a Palazzo San Giacomo, da quelle legate al percorso, che comprende anche il tracciato della mezza maratona, alle attività del nuovo villaggio e dalle iniziative collaterali. L'appuntamento al quale parteciperanno atleti di 27 nazionalità è per domenica prossima, il 15 febbraio. L'arrivo della Maratona di Napoli con uno scenario impareggiabile. L'arrivo sul lungomare liberato è sicuramente una di quelle cose straordinarie che farà di questa maratona e darà un eco sempre maggiore possibilità. La possibilità di poter finalmente dire che questa maratona di Napoli potrà competere con altre città straordinarie come Roma e come Milano.